L'Accademia per la Mobilità Sostenibile di Ortona raccoglie la sfida promossa dalla Regione Abruzzo volta all'attivazione di corsi di alta specializzazione nel settore ferroviario. Si dà così avvio ad un processo di qualificazione e sviluppo della mobilità sostenibile inserendo nel mercato del lavoro nuove professionalità per la gestione del trasporto ferroviario modale e combinato. Si tratta della prima costruzione di filiera integrata a formazione lavoro per il trasporto merci su treno nella nostra Regione. Grazie ad un accordo tra il Most di Ortona, il Forfer, centro di formazione riconosciuto in campo nazionale, così la Regione potrà mettere in campo finanziamenti per ben due corsi di alta formazione specializzante, preparatore treno e agente di condotta macchinista, a cui potranno partecipare 25 giovani diplomati con idonei requisiti di ammissibilità. Il progetto è stato fortemente voluto dall'assessore al lavoro e formazione professionale Pietro Quaresimale e dal consigliere regionale Manuele Marcovecchio. Oggi il tema del trasporto ferroviario è un tema dove è stato acceso un faro grandissimo, il raddoppio della pesca a Roma, la velocizzazione della Bologna-Lecce. Sono argomenti importanti messi sul piatto e noi come TS Mobilità Sostenibile vogliamo rispondere presente. Abbiamo sfruttato, ovviamente ringraziamo il finanziamento da parte del Consiglio regionale e quindi promosso dal Presidente della Commissione Emanuele Marcovecchio e in collaborazione con Forfer, ma anche con Tua, perché noi abbiamo la fortuna di avere Tua e quindi Sangritana, sia come socio della fondazione ma anche comparatore regionale, quindi abbiamo la possibilità di dare ai ragazzi, di far toccare ai ragazzi con mano quello che è il trasporto ferroviario.